non arrivavo da lei lei non credeva che venivo da lei intervistare invece sono arrivato giusto giusto vado bene come intervistatore? benissimo vado benissimo perfetto il tuo nome? Alessia Alessia con questo bellissimo sorriso ti chiedo da dove vieni? Cremona sei pronta a sfidare il convento? sono prontissima allora subito prima sfida un bacio sulla guancia all'uomo che intervista anche al cameraman vai anche da lui o da Aglielo vai ok fantastica adesso passiamo tutta la carrellata e tutti i tavoli ok no scherzo con chi ti sposi? Damiano ma secondo te Damiano è contento che vai in giro a dare i baciettini qui al convento? si brava fantastica allora dimmi due aggettivi di lui l'uomo che ha deciso di sposarti rompi balle e generoso rompi balle e generoso sei pronta a festeggiare il tuo Dio Nubilato qui al convento? abbiamo già iniziato abbiamo già iniziato e fino alle tre e mezza di notte sei pronta a scatenare l'inferno? anche alle quattro? allora in mezzo alle amiche salutiamo tutti i tuoi amici a casa vai ciao nooo Grazie a tutti.